Ah, Stivonni. Tutti adorano Stivonni. Io in particolare, quando ho visto l'epidio in cui è stata Stivonni, ero rimasto particolarmente colpito da come questa stessa si inizia sorprendendo sempre di più, perché era proprio quel gruppo di episodi in cui stavano succedendo un sacco di cose. E beh, la mia principale attività, nonché più divertente in assoluto, è stata passare gli ultimi anni a cercare di capire se fosse intersessuale, transessuale, o chissà quale altra via di mezzo possibile. E caso mai qualcuno di voi non avesse visto tutto quanto Stivonni Universe e Stivonni Universe Future, vi sconsiglio di guardare questo video, ok? Allora, come sempre i miei video in cui parlo di un personaggio sono video in cui parlo partendo dalla storia di quel personaggio per poi iniziare a parlare magicamente di qualcosa che in realtà c'entra ben poco, ma è più che altro il tema affrontato, o meglio uno dei temi affrontati dal personaggio. Ebbene, il tema di Stivonni è senza dubbio la coppia, l'esperienza che lei deve vivere, ovvero l'essere Stivonni, perché la primissima cosa che impariamo in Stivonni Universe è che la fusione è una tecnica molto particolare, difficile da usare. Per questo è usata solo in caso di vita o di morte, o quando c'è un vero motivo per fondersi. Come rivelato da Garnet, la fusione è l'amore. È il principale motivo per fondersi, è il principale motivo per unirsi. A livello scientifico, anche l'accoppiarsi, mi dispiace dirvelo, ma per quanto anch'io sia gay, è questo il dato di fatto. Insomma, signore e signori, accoppiarsi serve effettivamente a fare figli. È orribile da dire, ma è effettivamente a questo che serve. A livello pratico. Ma al di fuori dal contesto scientifico, noi ci accoppiamo lo stesso. Le persone che non si possono riprodurre per un problema fisico, beh, si accoppiano lo stesso. Gli omosessuali si accoppiano lo stesso. Noi ci accoppiamo anche tra amici, perché non si parla solo di cupulare, si parla di rapporti interpersonali, perché di questo che parla Stivoni, del rapporto fra un bambino e una bambina, sì, ma fra due persone. E non si può parlare solo del fatto che è estremamente utile per potersi riprodurre, perché lo sappiamo già che maschio e femmina possono fare a dei figli e che questo porta avanti la specie ci permette di sopravvivere. Va bene, perfetto, fantastico, ma all'interno delle coppie non c'è solamente la riproduzione. E se quella si fa perché l'alternativa è la morte, lo scegliere con chi accoppiarsi è una cosa che nella nostra società viene fatto in base a quanto tu stia bene con quella persona. Ora, sulle coppie ci sono grossi problemi ultimamente, perché scommetto che la maggior parte delle persone che vedranno questo video saranno probabilmente ragazze tra i 18 e i 24 anni, che non sono mai riusciti a sentirsi davvero soddisfatti in una qualche coppia e magari state affrontando proprio quel periodo in cui vi siete appena lasciati o siete convinti che non troverete mai l'amore o chissà con l'altra cosa. Perché è così che è l'amore. È così che sono i rapporti interpersonali fra le persone in qualsiasi contesto. Ovvero abbiamo da un lato una persona che vuole stare con l'altra e dall'altro un'altra persona che vuole stare con l'altra. Può sembrare semplice perché, hey, l'entrambio vogliono stare l'uno con l'altro. Eppure ci sono un sacco di falsi miti che girano e, appunto, uno degli scopi principali del personaggio di Stivoni è farvi capire quali. Per esempio, la prima cosa che Stivoni realizza quando Steven e Connie si fondono è che lei si sente sola. Com'è possibile? Ma se siamo insieme? Va a prendersi due ciambelle e quando arriva il momento di darne una a se stessa o una all'altra si rende conto che, beh, è sempre se stessa, sta solo mangiando due ciambelle. Sì, lo stanno facendo insieme. Ma com'è possibile che finché Steven e Connie non erano fusi riuscissero a sentirsi amici e uno vicino all'altro e ora all'improvviso invece si sentono soli. Beh, perché uno dei falsi miti sulle relazioni è proprio il fatto che avere una coppia, avere una relazione stabile, un fidanzamento, un amore, non ti permetterà in alcun modo e in alcun senso di sentirti meno solo. Perché non è quello che ti fa sentire meno solo. La tua solitudine non dipende dalla quantità di persone da cui ti circondi. Avete presente quella frase di Lars, ovvero ti capita mai di essere in mezzo alle persone e sentirti lo stesso solo? Ecco, è una cosa che succede anche nelle relazioni. Quindi non cercate una coppia, una fidanzata, un fidanzato, qualsiasi altra cosa cerchiate per sentirti meno soli, perché non succederà. Perché se il vostro problema è che avete bisogno di qualcuno da abbracciare la notte, non risolverò il problema. Non è la soluzione. Mi dispiace. Lo so, questo vi sconvolgerà e potresti dirmi, ma come? Ma se io avesse una ragazza la sbacciucchierei tutto il tempo. No, non è vero. Perché lei ha bisogno dei suoi spazi e a un certo punto inizierebbe a tirarvi giù e dire, dai, basta! Perché per quanto possiate essere affettuosi, se ci fate caso, quelli che si saltano addosso a vicende, si silinguazzo in mezzo alla strada, sono, spesso, le coppie che durano di meno. Poi ovvio, c'è qualcuno che sta benissimo così. Dopotutto l'amore è una cosa così complicata che nemmeno io so quali siano le regole, ma sappiate che fidanzarvi non è... non vi dà la certezza, anzi nemmeno un'alta probabilità di sentirvi meno soli. Vi sentirete soli uguali se siete persone sole. E... Stivonni, perché si sente solo in quella scena? Perché quando due persone si uniscono fino a quel livello, diventando una sola persona, riunendosi per tutta la vita, finiscono per essere una parte integrante dell'altra. Quando due persone, convivendo, condividono tutto quello che fanno nella vita, condividono tutto quello che rappresentano e condividono tutto quello che sono, il risultato finale è che diventano una persona sola, per certi versi. E è stressante, molto stressante, per questo molte coppie scoppiano, per questo, soprattutto ultimamente, ci sono così tanti divorzi. Una volta, spesso, i matrimoni potevano essere combinati. Oppure c'erano dei contesti dove sapevi che sì, ok, mi sono scelto lui come marito, ma non posso cambiarlo perché la chiesa non vuole, perché non si fa. E' ora che abbiamo sdoganato questa idea che le persone si possono lasciare. Però questo ha anche reso più sottovalutata l'idea di coppia. E quindi moltissime persone si sposano perché sì. Non hanno una vera motivazione, non sono sicure di essere innamorati, si conoscono da un anno, due anni, addirittura qualche volta meno di un anno, qualche mese e si sposano. Ma il matrimonio è una promessa molto complicata. Per questo Connie dice di no a Steven quando chiede di poter restare per sempre fuso in sti monni. E' un impegno. Quando tu metti la fede al dito a qualcuno, stai promettendo qualcosa che in realtà non puoi promettere. Ovvero che tu non cambierai. Non puoi, non lo puoi sapere. Le persone cambiano. Le cose si modificano. Tu cresci, tu maturi. Pensate a quelle cose dove sono sicuro che io posso citare di sicuro in qualche momento dalla tua infanzia, dalla tua adolescenza, che trovi cringe e che se tu lo vedessi ora diresti cazzo, ma ritanto non l'averlo fatto. Oh mio Dio, è stato orribile. Oh che persona orribile ero. Oh quanto ero infantile, quanto ero stupido. Bene, succede a tutti perché maturi. E tenendo conto che certe scelte, certe azioni, certi pensieri che hai fatto in passato, in realtà non valgono più oggi, perché ora sei maturato, hai imparato altre cose sul mondo, hai scoperto quale errore avevi fatto, hai scoperto che oh mio Dio, ero un idiota. Beh, è lo stesso che succede in una coppia. Quando la coppia inizia, le persone che si incontrano sono molto diverse rispetto a come procedere alla storia. Quando Stephen e Connie si incontrano la primissima volta, Connie è una ragazzina particolarmente introversa, che come massima aspirazione nella vita ha la partita di tennis, che è molto succubile dei genitori e che sta in spiaggia da sola a imparare i nomi delle barche a memoria, leggendo libri e cercando di ignorare tutti. La Connie con cui Stephen si è fuso quando si è fuso la primissima volta, è una Connie molto più extroversa, allegra, felice di essersi liberata da un grosso peso da parte dei suoi genitori e che ha superato tantissime difficoltà e che ha deciso di mentire ai genitori per nascondere Stephen. È una Stivonni molto diversa rispetto a quando si sono conosciuti. Cioè è una Connie molto diversa. E così, Stivonni, che è molto diversa quella volta in cui si fondono per caso sulla spiaggia e iniziano a correre, rispetto a quando iniziano a combattere contro la nave di Ismeraldo. Sono due Stivonni completamente diverse. Non è un caso che una delle due sia cresciuta la barba e l'altra no. Perché cambia, tutto cambia. Come dice la canzone più importante della storia di Rebecca Sugar, Everything stays but it still changes. Oh mio Dio che pronuncio orribile quanto sono British. Ovvero che tutto resta anche se cambia. È un modo per dire che non puoi assicurarti che non cambierai. E io come faccio in un matrimonio ad assicurare, o anche solo in un affidanzamento, o in una relazione, che io non cambierò. Che non diventerò una persona orribile, insopportabile, con cui non puoi sopravvivere e che non sopporte minimamente. Non te lo posso promettere. Come faccio ad avere la certezza? Semplicemente non posso. Il matrimonio è una promessa che devi mantenere di proposito, anche se devi sviluppare a caso come un albero piantato che poi cresce. Sì, vabbè, lasciamolo lì. Prendersi cura della coppia è una cosa molto importante, perché una volta che vi mettete assieme, la storia non è finita. Anzi, appena è iniziata una nuova storia. E questa sarà bella complicata, perché ci sono tante fasi. Ci saranno giorni in cui vi odierete, ci saranno giorni in cui starete insieme felici e promettere a una persona di diventare una cosa sola. Significa sacrificare quello che si è. Se Stivonni si fondesse per sempre con Steven, potrebbe essere una scelta carina e romantica, come è stato fatto con Garnet. Garnet. Ma non è quello che Stivonni vuole, perché non è quello che Connie vuole. Perché Connie non vuole fare come Garnet. Connie non sta rinunciando a tutto per Steven. Connie sta cercando di maturare, di crescere, ha il suo percorso da fare, la sua identità da cercare. Lei vuole finire il college, lei vuole studiare per andare nello spazio oppure diventare presidentessa degli Stati Uniti. Lei ha dei sogni che vuole portare avanti e non li può sacrificare per amore. Da un lato ci sono quei film americani sulla donna in carriera che deve assolutamente procedere con l'amore, alla fine impara che può dedicare anche un attimino all'amore. Ma dall'altro c'è il mondo reale e nel mondo reale effettivamente è complicata questa questione, non è così facile. E quando tu ti accoppi finisci per rinunciare a una parte di te, significa che non puoi più girare nudo per casa, che se ti scappa un peto in mezzo al corridoio forse è meglio non farlo perché potrebbe sentirlo l'altra persona, non perché vieni giudicato ma perché vuoi cercare di creare una convivenza civile. Quando due persone convivono stanno limitando i loro spazi, stanno creando dei paletti, stanno creando delle barriere tra loro e stanno condividendo una sola cosa, una sola vita. Significa sacrificare tanto del proprio spazio, tanto del proprio tempo, tantissimo del proprio tempo. Parlando di tempo, avete presente in Momo la conquista del tempo, vero? Di Enzo Dalò e di Michael Ender. Praticamente Michael forse. Vabbè, in Momo ci sono questi... ok vi riassumo semplicemente la trama di Momo. Si parla del nostro mondo, infatti il film è ambientato pure in Italia e ci sono questi uomini grigi che vanno dalle persone umane e cercano di capire quanto tempo spendono. E quindi propongono loro dei contratti per semplificare il tutto e spendere meno tempo possibile. E la prima cosa che dicono è proprio che la cosa che ti fa sprecare più tempo non è tanto chiacchierare quando lavori quanto dedicarti agli altri. Dedicarti agli altri ti fa sprecare tantissimo tempo. E quando tu ti sposi, quando ti fidanzi o quando intraprendi una relazione di amicizia con qualcuno, stai sacrificando una grossa fetta del tuo tempo. Una grossissima fetta. E è giusto così, però devi sapere che lo stai sacrificando e che deve arrivare da entrambe le parti. Come ho detto nel video sull'amicizia, non potete pretendere di sapere come andranno le cose e non potete pretendere di poter essere amico di qualcuno solo perché vi sta simpatico. Io non posso scegliere una persona davanti a me e insistere per potermi diventare sua amica. O funziona o non funziona. Non è una questione di impegno, è una cosa che deve essere spontanea. Perché se ci si impegna, si finisce per avere una relazione che è come con i compagni di classe. Che magari sì funziona, magari vi volete un sacco bene, vi raccontate i fatti vostri e magari entrate pure molto in intimità. Ma una relazione non si basa su questo. Sconvolgente, vero? Una relazione di amicizia non si basa sul raccontarsi le cose. Non si basa sul condividere gli spazi perché a quel punto saresti un coinquilino. in base almeno su avere interessi in comune. Perché a questo punto sai quanta gente tramite fandom e internet potrebbe essere tua amica. L'amicizia è una cosa molto complicata ed è un rapporto che non è affatto diverso da un rapporto d'amore. Quando vi fidanzate con una persona ci mettete dentro anche un po' di sesso, magari se non siete asesuali. Un po' di sesso, magari dovrebbe esserci in mezzo anche una speranza per dei figli. Ci sono tutta una serie di questioni di proprietà, tu non puoi essere degli altri. Nell'amicizia tutti questi passaggi non ci sono, ma l'intenzione è la stessa. Ovvero una persona a cui tieni così tanto che moriresti per lei in poche parole. Poi ci sono rapporti di amicizia più intensi, quelli più sottili, quelli più profondi e quelli più leggeri. Una persona che non puoi incontrare dal vivo difficilmente riesce a diventare tua amica oltre a un certo livello. E se le cose spontaneamente non partono per conto loro non c'è molto da fare. Ma al tempo stesso dovete dedicarvi a queste amicizie. Una volta che sono partiti magari, oppure creando degli spunti e vedendo se funziona o no. E proprio come succede con Stivonni, ci vuole tanto tempo e tanti ragionamenti per capire che cosa l'altro potrebbe volere. Quando per esempio Conni ha fatto del male a un ragazzino, Stivonni ha delle visioni. E ripercorre, tramite associazioni varie, tutti i momenti in che Steven e Conni hanno dovuto fare del male a qualcuno. Volontariamente, per scelta, accidentalmente, ma hanno fatto del male a qualcuno. I sensi di colpa. Come vedete, i sensi di colpa, per quanto siano una sofferenza intima di Steven e di Conni, finiscono quando diventano Stivonni per essere una sofferenza per tutti e due. Ed è quello che succede in un qualsiasi rapporto intenso, dove le vostre sofferenze diventano sofferenze di entrambi. È una cosa che succede subito. Prima di arrivare a questo punto dobbiamo attraversare tutti quanti i passaggi del rapporto fra Steven e Conni. Avete già visto il mio video su Steven e il video su Conni per poter parlare di questo. Ma Stivonni vuole insegnare un po' alla volta, episodio per episodio, come funziona un rapporto. Quando Stivonni si infuria con Kevin e vuole a tutti i costi dimostrare qualcosa, per esempio, abbiamo a che fare con una coppia che ha uno scopo comune, ma non riesce a raggiungerlo perché le due persone lo vogliono raggiungere in modi diversi e finisce per essere un'intenzione malsana, dove più che una coppia finiscono per sembrare un partito politico che si accanisce contro qualcuno. Fate attenzione al tipo di coppia che siete, perché anche in contesti dove vi volete davvero tantissimo bene, rischiate di trasformarvi in una cricca. o di rinunciare all'intimità di uno dei due, cosa che può succedere facilmente nella fusione, quella di pertersi, come è successo in Marachite, dove Lapis e Jasper si sono persi a tal punto che a un certo punto volevano tornare ad essere Marachite. Infatti Garnet specifica più volte che all'interno della fusione, a volte, le due persone si sentono due persone diversi. Altre volte si riuniscono così tanto che l'altro sparisce. Non è il caso di Garnet perché la sua è una relazione basata sull'amore, ma probabilmente è il caso di Azzurrite, Azzurrite Bluebird di Steven Universe Future. La proposta di Steven per Connie, la proposta di matrimonio che ha fatto è sbagliata, ma non solo perché hanno 16 anni, perché negli Stati Uniti con il permesso dei tuoi genitori puoi sposarti a 16 anni. Puoi guidare e puoi anche sposarti col permesso dei genitori. Non è tanto il fatto che lei stia andando ancora a scuola, perché sapete quanta gente si sposa mentre va ancora a scuola o all'università. Io sono in quell'età, in quella gente mia coetanea inizia a sposarsi, io mi sento sempre più disagio per questa cosa. C'è gente che alla mia età ha già due figli e io sono... Cosa? Uno dei più grossi problemi all'interno delle coppie è proprio quello che viene affrontato con la proposta di matrimonio di Steven per Connie, ovvero quando una delle due persone dà per scontata l'altra. Non dà per scontata nel senso dò per scontato che tu ci sia, ma dò per scontato di sapere che cosa vuoi. Quando tu fai una proposta a una persona, non sempre stai facendo un buon gesto. Prendete quel video, quel video che di sicuro avete visto tutti quanti perché è girato ovunque, di quel tizio che è praticamente un telegiornale, non so di quale è stato. C'è la presentatrice, o meglio due presentatori, la presentatrice e ragazza che lancia questo servizio. E in questo servizio c'è il giornalista che a un certo punto stende un pelo a terra, si inginocchia, apre una scatoletta con dentro l'anello e fa la soproposta. E la ragazza, la presentatrice del TG, che più o meno come reazione ha questa. è sparire nel nulla. Perché? Perché lui ha fatto un grosso errore. Mi è capitato di vedere tantissime persone che nei commenti dicevano, ma dai, ma poverino, lui si è proposto e lei si nasconde, che bastarda. No, 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 è lui che ha fatto un errore. Perché questa è una cosa che riguarda la loro intimità. Loro due, come persone. Ok? Noi non sappiamo magari che tipo di rapporto abbiano, magari lei è davvero una persona orribile, ma in quel momento l'errore è stato fatto da lui. Perché un gesto romantico è un gesto romantico, è carino. Ma devi stare attento a quello che può rappresentare per l'altra persona. Connie non era pronta. Per quanto Steven si sentisse solo, Steven volesse dare una svolta un significato alla sua vita. Connie non stava cercando questo. E il fatto che Steven abbia deciso di proporsi in matrimonio a lei all'improvviso non è stato un gesto romantico. Per quello Connie resta un attimino confusa e non vuole dirgli di sì, ma non vorrei nemmeno che lui ci resti male. Perché Steven l'ha dato per scontato, ha dato per scontato che lui potesse sapere che lei voleva un matrimonio. A questo punto potreste dirmi, ma scusa, allora qualsiasi proposta è presunzione perché tu non sai se l'altro dirà di sì o di no. Sì e no. Primo, puoi tentare di fare la proposta. Magari non farla in tv. Non farla davanti ad altri. Falla in privato. Ok? In privato. Farla sul telegiornale con tutti quanti che ti guardano è orribile. È un pessimo gesto. Perché? Perché se lei, la ragazza, avesse detto di sì sarebbe andato tutto bene. Ma se lei avesse voluto dire di no, avrebbe fatto la figura della stronza. E in ogni caso avrebbe dovuto dare spiegazioni a lui. Spiegazioni che non gli poteva dare perché eravamo nel bel mezzo di un telegiornale. E non è il momento giusto per parlare di queste cose. Per niente. Perché se è un sì, va tutto bene, diventa una scelta romantica e ce la ricorderemo, la racconteremo ai nostri figli. Ma se fosse un no, lei si ritroverebbe in un enorme imbarazzo, dovendo rispondere davanti a tantissime persone che gli darebbero della stronza solo perché dice di no. Senza sapere ovviamente se magari lui è uno stalker e basta. Secondo. Tu stai trasformando una cosa che è vostra intima e privata in qualcosa di pubblico. Senza aver chiesto niente a nessuno. Molto male. E terzo. Tu chiedendoglielo sul posto di lavoro, la stai addirittura mettendo in difficoltà rispetto alle persone con cui lei lavora. Che non solo potrebbero non essere interessate, giudicarla o metterla in difficoltà col lavoro, ma la mettono ancora più in imbarazzo proprio perché stanno mescolando, stai mescolando in un colpo solo un ambiente privato con un ambiente pubblico. E non va bene. Non dovete fare queste cose. Perché? Perché non potete sapere fino a che punto una persona ha bisogno di tenere separati il suo ambiente privato e il suo ambiente pubblico. Anche quando litigate con una persona e dovete dargli la stronza perché è una persona orribile che non si merita la vostra attenzione. Va benissimo. Ma trasformarlo in una cosa pubblica è un male. Perché poi si finisce in tribunale. Perché poi litigate per sempre. Perché poi l'unica cosa che ottenete è che diventa una gigantesca vendetta in cui vi fate male a vicenda. Perché tutti si possono offrire a vicenda. Tutti possono tirare un coltello a contellarti. Così come tutti possono a un certo punto semplicemente incazzarsi e accusarti di qualcosa. Che tu abbia fatto meno. E trasformare in una cosa gigantesca dove non capisci mai chi sta mentendo, chi no. E si basa tutto sulle opinioni degli altri. Non devi fare in modo che la tua coppia si basi sulle opinioni degli altri. Si deve basare su di te. Su quello che tu senti. Sulla tua personale idea di coppia. Su quello che tu hai bisogno all'interno di questa coppia. Su quello che voi due avete deciso insieme. E quindi in una coppia forse è il caso di parlarne prima. Prima della proposta discuterne. In modo che tu sappia qual è l'opinione dell'altra persona. In modo che tu sappia che cosa pensa, chi cosa vuole e così via. Io sono una persona che la prende molto, molto con calma con i rapporti interpersonali. Do tempo. Molto tempo. E mi dà sinceramente fastidio quando una persona che mi conosce dalla settimana dice, ah sì ormai siamo amici. In una settimana? Hai visto pochissimo di me. Immagina la tua prima settimana di scuola. Ti rendi conto che non ti ricordavi neanche i nomi delle altre persone? Ecco, la stessa cosa. Ci vuole tempo per conoscere una persona. Per sapere che cosa vuole o non vuole. E se si tratta di una relazione, una relazione che sia di amicizia, di convivenza o qualsiasi altra cosa, dovete parlarne in due. Perché ci sono due persone all'interno di una coppia. Perché questo si chiama coppia? Perché ci sono due persone. E devi coinvolgerle entrambe. Sapere che cosa entrambi pensano. Tu non sai quanto puoi essere importante per l'altra persona. Dovete parlarne insieme. Con calma. Tu non puoi sapere se questa vuole sposarsi o no. Dovete parlare insieme. Con calma. L'errore di Steven è che lui ha pensato a se stesso. Senza chiedere davvero a Connie. Perché arrivare alla proposta sperando in un sì. Sì, può essere carino. Ma significa anche che Steven non ci ha riflettuto. Vuol dire che non ha pensato. Che ha dato per scontato che la risposta fosse probabilmente sì. Che sì, c'era una possibilità di un uomo. Probabilmente era sì. Quando in realtà Connie è caduta dalle nuvole. E non se l'aspettava. E non era pronta. E la risposta ovviamente sarebbe stata no. Perché Connie sta facendo cose nella sua vita. Ha degli scopi. Ha delle intenzioni. Ha dei bisogni. Se siete in due in una coppia dovete ragionare insieme. Con calma. Un po' alla volta. Poi i litigi capitano. Poi le cose succedono. Poi non potete prevedere come andranno. Ma dovete anche fare molta molta attenzione a quello che volete e richiedete all'interno di una coppia. Prendetevi il vostro tempo. Con calma. E parlateli. Perché se in una coppia avete paura di parlarne per un no o qualsiasi altro motivo. Se in una coppia hai paura di parlare. Vuol dire che come coppia fa proprio cagare. Se state insieme da un mese. È normale che abbiate ancora paura. Se un anno o due. Magari di qualcosina potete avere paura. Soprattutto se sono temi particolarmente scottanti o intimi. Ma se volete che questa coppia duri tutta la vita. Forse. Forse qualcosa non funziona. Se non riuscite a parlare tra voi. Ok. E comunque alla fine Stefania è intersex. È la risposta alla grande domanda che ho fatto all'inizio del video. Poi tutti quanti tentiamo con le relazioni. Non c'è un trucco. Una grande soluzione. Un modo in cui le cose vanno fatte. Si tenta. Un po' alla volta. E visto che ognuno di noi è diverso l'uno dall'altro. E ogni altra persona è diversa l'una dall'altra. È difficile che due persone che sono uniche al mondo. Abbiano una regola per poter stare assieme. Perché ogni singola relazione è diversa. Ogni singola fusione è diversa. E quindi non puoi mai sapere come potrà andare. O in che modo vi dovete comportare. C'è gente che ha fretta. C'è gente che ha bisogno di tempo. Ci sono persone come Greg e Quarzo Rosa. Che non hanno mai avuto bisogno di parlare del loro passato. Infatti nessuno conosceva il passato l'uno dall'altro. Ci sono coppie come Garnet che condividono ogni singolo aspetto della loro vita sotto ogni singolo punto di vista. Ci sono coppie come Sadie e Lars. Che si basano molto sul conflitto tra i due. Ma si crea una fantastica chimica di affetto reciproco. Nonostante passino il tempo a litigare, discutere e non essere d'accordo. Ci sono coppie come i genitori di Greg. Che invece sono molto molto sicure e sincere. E sanno perfettamente quello che vogliono. O come i genitori di Connie. Che sono dei pessimi esempi di come una coppia dovrebbe essere. Entrambi concentrati sul lavoro e pochissimo sulla figlia. Come se fosse una sorta di impegno da aggiungere all'agenda. E non una persona a cui voler bene. Ci sono tantissimi modi di vivere la propria coppia. E non c'è un modo giusto. Ci sono coppie composte da due persone come Rodonite. E ci sono coppie composte da sei persone come Florite. E quindi non sono più coppie. Sono tipo esoppie. Ma il punto è che ognuno la vive come ne ha bisogno. Come se la sente. Ma quando si dice questa frase bisogna anche ricordare che in una coppia ci sono due persone. E queste due persone non sono nate per essere d'accordo tra loro. Dovete parlarne. Dovete scoprire qual è il modo in cui andate d'accordo. Dovete scoprire qual è la coppia di cui avete bisogno. Volete una coppia chiusa o una coppia aperta? Volete una coppia che condividi ogni singolo spazio? Volete addirittura vivere in due case separate? Dormire nello stesso letto oppure no? Io ho amici con cui posso vivere tranquillamente per anni e dormire nello stesso letto. Ho amici con cui so che non potrò mai dormire nello stesso letto perché si sentono a disagio. Ho amici che si fanno vedere nudi da me o fanno la cacca davanti a me e non si fanno problemi. Ho amici che hanno più difficoltà con queste cose. I rapporti tra le persone sono complicati. E già ogni singola fusione, ogni singolo rapporto tra due persone è diverso. Aggiungete poi che cambia col tempo e che si trasforma e si modifica e si evolve. Ci vuole tempo. Tutto qui. Credo che la soluzione a tutti quanti i problemi delle coppie sia il tempo. Date tempo. Abbiate tempo. Aspettate il vostro tempo. E come con Stivonni, ricordatevi che stare con un'altra persona non vi farà sentire meno soli. Perché la solitudine è una questione un po' diversa. Ciao. Scusa. Cosa scusa? Tranquillo? Oh, ho detto di nuovo tranquillo. Stiamo avendo un problema perché io continuo a dire tranquillo e non dovrei. Ti lancio una piccola patata. Viste le mini patatine? Sono delle micro patate. Sono bellissime. Ma non so da dove arrivino. Le ha tipo comprate o... Penso di sì. O le ha trovate nel vaso là fuori. Che non è poi così improbabile. No, penso le abbia comprate. Ecco da quelle piccoline, carine. Pasta? È ora di pranzo. È. Oh. Ok. È passata ora di pranzo. E allora pasta. Signore e signori. Credo che basti tutto questo per parlare di Stivoni, vero? Come sempre nei commenti risponderò a qualsiasi domanda e... No, non farò tutte le fusioni perché le fusioni sono... Scusa. Chiassoso. Perché le fusioni sono troppe. E troppo complicate. Meglio fare i personaggi, uno alla volta. E Stivoni era un argomento un po' particolare. Così come Malachite e qualche altra fusione di cui ho parlato in passato o parlerò in futuro. Addio. Stivoni è un argomento.